Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questa puntata, sono sempre io Samorella Boni, in questo video pazzesco invito subito a lasciare like, iscrivetevi a questo canale, mi raccomando se volete nuovi video, aggiornamenti sulla compra vendita, mi raccomando lasciate like ed iscrivetevi. Allora ragazzi, oggi sempre un nuovo video di compra vendita, ma prima di iniziare se volete entrare nel mio gruppo compra vendita, primo link in bio, consigli giornaliere, guidi, guidi, guida e ovviamente la mia presenza, quindi se volete entrare mi raccomando, primo link. Se volete invece un'applicazione sportiva incredibile, cliccate il secondo link e scaricate l'applicazione di numero 10, mi raccomando. Allora ragazzi, oggi metodo di compra vendita un po' diciamo banale per alcuni sicuramente, banalino, io non lo uso spesso però funziona, funziona quasi sempre, vi consiglio assolutamente di darci un'occhiata. Budget un po' per tutti, sia perché è un budget ad esempio di 100k, ma anche perché è un budget di 500, quasi un milione, quindi anche budget alti e budget medio-bassi. E andiamo a vedere di cosa si tratta. Oggi è mercoledì ed è uscito, mercoledì sera, sto registrando il video, quindi non so quando uscirà, comunque più o meno il metodo vale per ogni settimana, perché utilizziamo il TOTV. Il TOTV ormai è un... tranne magari le prime 4-5 settimane è un po' ormai un... non dico inutile, però ci regala veramente delle carte abbastanza ridicole. Se pensiamo che la carta più costosa è il buon Rashford, sì, che è 250, ma non è niente. Credo anche che calerà, visto la presenza del Rashford questo qua, che è nettamente più forte. Però comunque è una buona carta intermezzo. Ma noi non ci interessa più di tanto questo, ci interessa, ovvero andiamo a vedere il TOTV meglio in questo modo. Ok ragazzi, noi vediamo dei prezzi. Ad esempio, vediamo un Robertone, ma a noi non ci deve interessare più di tanto la qualità del giocatore, che comunque mi sembra una bella carta. Anzi, anzi, io ci darei un'occhiata, perché comunque è vero che costa poco, però potrebbe anche aumentare. Ed è proprio questo il motivo. 12K è praticamente, praticamente, e dico praticamente, quasi prezzo scarto. Quasi prezzo scarto. Adesso per uscita, magari domani giovedì l'ho trovata meno, venerdì l'ho trovata meno, dipende dalla giornata. Controllate sempre i prezzi. Il mio consiglio, ed il consiglio che do anche nel mio gruppo compravendita, non sempre, non tutti i giocatori, certi giocatori, bisogna investire almeno, almeno, quindi minimo, almeno una copia. Prendetevi almeno una copia di alcune carte che escono nei TOTV. Adesso vi spiego quali funzionano quasi sempre. Ad esempio, andiamo a vedere, non lo so, WordPress, che è un 87, è un IF, quindi utilissimo per le sfide. Andiamo in questa sezione, vediamo, gold IF, andiamo qua, e vediamo l'87 che costa meno. In questo caso l'87 che costa meno, costa 21K. Quindi il buon WordPress è troppo effettivamente costoso per questa sezione di overall, quindi non ha senso investire in questo momento su WordPress. Una carta che invece ha sensissimo in questo momento, adesso sto guardando i prezzi adesso, magari quando c'era il build diverso, può essere Turam. Costa praticamente quasi al prezzo base, è anche una discreta carta, e se noi andiamo a vedere nel 1983, più o meno questo è il prezzo. Quindi, se noi riusciamo a prendere una carta che è appena uscita, ha un prezzo veramente ridicolo, e rivenderla. Vi faccio un esempio, vi faccio un esempio pratico, nel mio gruppo, andiamo a vedere proprio i primi, ovviamente per guadagnarci il quale, in questo metodo, mi sto impapilando, in questo metodo ci vuole del tempo, ragazzi. Cioè, è inutile che stiamo qua a dire cavolate, ma ci vuole del tempo. Allora, dov'è il team? Non c'è un TOTV, TOTV1, vediamo un TOTV3, TOTV3, no, ho sbagliato. Dove mi è andato questo? Dove cavolo? Piccolo, piccola interruzione, piccola interruzione. Ok, andiamo a vedere il TOTV4, a sto punto. Vi faccio vedere un esempio, magari un giocatore che avevo scritto, potrebbe essere un Modest, un Modest, secondo me, adesso non mi viene in mente, ma potrebbe essere. Un Modest che era uscito in ottobre, quando uscite, ragazzi, guardate il prezzo, 10k, voi direte che palle, che palle, che palle, che palle. È arrivato, fino a novembre, pom, è arrivato addirittura un picco di 22k, ragazzi. Vabbè, inizio game era veramente rilento, perché ci ha messo un mese e mezzo, praticamente, ad alzarsi il prezzo, ma è normale, perché i primi TOTV sono... Cioè, non ci sono tante SBC a inizio game, quindi è difficile che si alzino il prezzo. Andiamo a vedere, ad esempio, il TOTV9, che è un po' più recente, mi pare prima dei Mondiali. Ad esempio, un Simacan. Un Simacan, anche lui, guardate, quando è uscito, 10k, 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 boom! Pum, ragazzi. Ma anche, andando a rivedere qua, ragazzi, potete vedere, boom, un piccolo aumento. Perché escono SBC? Perché? E ripeto, perché? Perché sì, perché i TOTV sono carte utilissime per le SBC e vanno assolutamente presi. Quest'anno, però, a differenza degli anni scorsi, peraltro, si conta solo l'overall, perché la nazionalità non serve quasi niente. Nelle SBC che escono serve semplicemente, sì, alcune volte mettono, magari, giocatore della Madrid, un giocatore della Ligan. Cioè, non... è semplice trovarlo, quindi non è il problema. Non era come gli anni scorsi, che dovevi fare l'intesa, ti serviva magari un giocatore di una certa nazionalità, gli fanno un po' un problema. Invece quest'anno è un po' più semplice, infatti i prezzi non sono poi così esorbitanti, però aumentano. Quindi, ripeto, hanno un prezzo veramente quasi al base, un altro può essere Galeno. Comunque, quando escono il... quando esce, scusate, quando esce il TOTV, io generalmente nel mio gruppo do i nomi, nomi e soprattutto quanto prendere, magari, cercare di evitare prezzi un po' alti che non vi fanno guadagnare. Ok, questo è il mio metodo, ragazzi, ripeto, vi ripeto, se volete entrare nel mio gruppo Comprevenita, primo link nella mia bio. Ripeto, in questo gruppo trovate consigli giornalieri e guide. Mi raccomando, se entrate al gruppo, guardatevi prima le guide e poi andate a fare quello che dovete fare, con i consigli giornalieri, eccetera, eccetera. Quindi, perché è importantissimo questa cosa qua. E, ripeto, se volete entrare, dateci un'occhiata, appunto, al primo link, perché potrebbe essere un'uscita, magari, di un posto in offerta, prezzo in offerta, se no c'è il prezzo pieno, ma, secondo me, vale la pena. Provate un mese, se non vi piace, se non vi tornate bene, ciao, è stato bello. Oppure, magari, smettete di giocare il prossimo mese, questo mese giocate, il prossimo mese vi rompete le balle, non giocate più a FIFA, potete uscire. Quindi, non è che vi fate un abbonamento annuale, è un abbonamento mensile e sta a voi. Niente, ragazzi, secondo link, numero di S, applicazioni sportive incredibili, scaricate anche quella. Ci vediamo alla prossima. Ciao!